abbiamo iniziato il renzo c'è stato togato il conto da 5 a 15 4 3 2 1 2 lo vedo e se tutto su una poltrona squadrata a due cose a tipo 2 comodini di fianco uno ad essere una sinistra e dice che quelli di dire sempre tenendo occhio devono stare lì perché deve avverti sott'occhio ti dà l'autorizzazione sì cosa sono i comodini come tini sono le parti della sua vita direi nel senso come se dividesse destra e sinistra come se fosse certo come se fosse tutto diviso in due no quindi deve tenere d'occhio sia la destra che la sinistra davanti dietro positivo e negativo fuori del volito si va bene sorenzo renzo di brazzo 9 miliardi consapevolezza 123 per cento psp 41 59 e che fate precedenti 2368 adesso in poi non ti muovere più un cervello 9.1 ok vai a vedere cosa pensa il tuo gatto pensa che lì è il punto c'è come se vedessi un collegamento tra la sua cervello e sotto energetico no e lì deve stare così perché lì sta bene riesce come se sembra che dormano è questa cosa mi viene e invece come se rielaborano delle cose che gli arrivano livello energetico dalla terra e la terra ha ha cambiato la frequenza 12 nell'ultimo periodo di quello e questo quello che lui va a vedere più che arrivano proprio delle informazioni della terra che sono le loro esperienze cioè le loro esperienze quando si incanano questo mi dice prendere informazioni dalla terra e quindi poi agiscono prendendo informazioni dalla terra va bene così abbiamo visto anche per fatto anche la sessione per il tuo gatto e tra ferito otto gatto adesso no ma ogni tanto qualche dl che gira degli informazioni che li può eliminare buttandolo nel gabinetto dei dl ok renzo è interferito chiamiamo tutte le interferenze teoriche di tutta la vita anche dell'infanzia adolescenza eccetera vediamolo ok allora c'è stato c'è stato questo uomo del tempo da quando ha iniziato a vedere l'età dell'asilo dai tre anni fino ai 22 che era quello che praticamente è come se si metteva tra lui e i suoi coetanei no quindi era quello che faceva sì che lui rimanesse isolato uomo del tempo si chiede a sonno c'è più no e in tutto questi anni cosa ha fatto altri lavori in che senso cioè si è interferito con renzo e 22 a 22 dopo è scomparso e solo oggi torna perché lo richiamiamo o vengono come funziona sto guardando è un'informazione che diventa volo gramma nel senso il momento in cui noi lo vediamo è o lo gramma forma di uomo del tempo no sì è come se avessero quello che vedo è come se ci fosse un posto da cui nascono gli uomini del tempo e hanno un tot numero contemporanea ce ne possono essere to non infiniti ma o qualche media 300 miliardi più o meno così ok quindi sono sempre c'è sempre quel numero lì quindi se non interferisce più una persona poi va a interferire un'altra è come se quell'informazione di fosse quella no quindi trova un'altra persona da interferire nella stessa maniera quindi con lo stesso scopo e con la stessa informazione capito c'è ok non c'è uno stampo hanno una specializzazione si esatto un lavoro fanno questo lavoro con qualcuno si è questo uomo del tempo quindi l'abbiamo tolto da un lavoro chiamandolo se va in stand by sì e se lo dovessimo eliminare per renzo si va ad eliminare per la persona sulla quale stava lavorando se però questo non è un modo di interferire questa persona che ha scelto di avere siccome non c'è tempo resiste nelle spazio nel tempo diciamo nelle in eterico noi andiamo a togliere l'interferenza di renzo ok quindi nello stesso tempo togliamo interferenza che dell'altra persona ma quello che io vedo è come se poi siccome ce ne sono tot di uomini del tempo in contemporanea 300 miliardi se ne togliamo lui sono 299 miliardi 100 999 milioni quindi se ne crea un altro a deve essere perfisso quel nome e quell'altro vala se l'altizio che ha deciso di continuare se non ha deciso di finire l'esperienza dell'uomo del tempo e quindi ha bisogno se ok vuole il tempo pochi sì un caprino una capra con le corde rimo secondo universo secondo poi con leonide e un falco uniforme edl 4 mentali ma di livello 3 e una di livello 6 forse neanche una di livello 4 ok 3 è quella che allora un po' le fa non gli fa ricordare le parole allora agisce sulle parole proprio sulle parole che devono uscire della sua bocca quindi gliele fanno gliele fa ricordare e gli fa fare delle frasi diverse da quelle che lui vorrebbe fare no quindi prima di tutto le confonde un po le idee le toglie le parole che vorrebbe dire e fa fare una frase che fa sì che lui arrivi come se le facesse perder tempo no come se ora che mette insieme alla frase ci mette più tempo no quindi di rallenta proprio il discorso ecco come quando lui ci parlava del fatto che non gli vengono le parole ma a volte gli vengono il giorno dopo e si ricorda quella parola che non gli veniva addirittura che almeno serve più esatto esattamente come si chiama non lo chiediamo mai come si chiama questa entità mentale tintin me ha detto la francese ho detto così tintin tintin perché tenta un personaggio di un fumetto francese abbastanza antipatico no mi dice tintin 4 allora quattro è l'entità mentale che con gli etl e il leonide gli crea spesso sintomi allora allora leonide con gli etl gli creano il sintomo e l'entità mentale di livello 4 lo fa fissare sul sito no quindi un pensiero ricorrente sul sintomo su quello che può essere su pensiero se è grave o no e quindi è proprio un cielo fanno entrare in questo loop fisico fisico proprio fastidioso 6 che già abbastanza alta sopra il 5 inizia a scaldarsi i motori se io vedo lo vedo questa entità mentale che fa sì che di tenere la sua ansia sempre attiva rispetto a tutto ciò che gli gira intorno vedo proprio che lui deve tenere tutto sotto controllo e questa c'è anche se lui ha tutto sotto controllo ha comunque sempre l'ansia che tutto sia a posto e tutti siano a posto c'è proprio questi tenta mentale che gli mette sempre il dubbio ma si è sicuro che lì è così si è sicuro che è controllato a tutto a posto gli orari c'è se ha ansia si è sempre in sottofondo quando è arrivata l'età dell'adolescenza superiori ok va bene queste sono le entità mentali andiamo subito a quello spinello particolare del 2009 quindi l'adolescenza era ben superata da tanto tempo durante il quale dopo il quale anzi ha avuto un episodio di grande ansia si è ritrovato da solo in casa dovuto chiamare poi la fidanzata per gestire per avere qualcuno con lui insomma la sostanza è proveniva dall'africa e ha sentito un dolore al cuore che l'ha molto spaventato allora in quel momento lì e le hanno messo l'impianto allora diciamo l'uso di stupefacenti abbassa tantissimo le vibrazioni perché in quel momento lì si aprono completamente i canali è come se la persona senza esserne consapevole è come completamente completamente non sempre però è molto vicino all'essere solo energia no nel senso si attivano molto gli campi energetici ci si aprono più che si attivarsi no e quindi la persona non è consapevole di questa apertura e l'interferenza arrivano e rimangono spesso io quel episodio lì ho già visto prima che allora è stato messo un impianto un impianto eterico a livello dei muscoli intercostali come se avesse tre piccoli dischi piccolini uno davanti uno sul fianco uno dietro e sono collegati tipo da un filo ok in quel momento lì ha iniziato l'interferenza delle onide insieme all'entità mentale di livello 4 quella sul fisico e da lì in poi sono arrivati i sintomi quelli più frecce da lì ha avuto più sintomi e spesso nel corpo va bene vediamo tutti gli impianti allora a questo punto visto che ne abbiamo già trattato uno allora c'è quello menta allora c'è questo impianto mentale anche lì è tipo una sfera al centro e anche lì è come se fosse collegata con un filo al suo corpo emozionale quindi lo vedo arrivare fino all'addome e attaccato agisce proprio anche c'è quindi sull'ansia no sull'emozione ansia per tenerla sempre viva e c'è un impianto anche lì che è quello che interferisce a livello intestinale poi ne ha due sulle ginocchia tutte le ginocchia una destra una sinistra e uno sui piedi c'è due sui piedi una destra una sinistra ecco basta ok vediamo allora il problema di parassitosi causa esoterica è quell'impianto che è stato messo intero dell'addome nel corpo emozionale che però va a ritare anche l'intestino quindi è proprio come se creasse un campo ideale per far sì che che crescano i parassiti ecco perché a livello abbassa le vibrazioni sempre perché c'è questo impianto mentale che tiene sempre l'ansia attiva poco ma sempre e quindi è sempre quello stato di è vero che gli autistici hanno un grosso problema di parassitosi come ci diceva renzo lui non lo è autistico però ma quello che ho visto io prima mentre lo diceva è che c'è diciamo che mettono quello che vedo spesso e che mettono tanti sintomi insieme poi li li chiudono in un etichetta e quindi avranno diciamo che nella statistica avranno visto tanti autistici con la parassitosi perché probabilmente sono stati più analizzati rispetto ad altre persone altri bambini e quindi hanno associato all'autismo io vedo che non è che c'entri molto trovo va bene causa tutelica della coli cisti allora da quando gli hanno messo quell'impianto qua mandano delle informazioni all'organismo per far sì che te vengano dei sintomi quindi ogni tanto creano dei sintomi e su cui lui poi si fissa veramente si infiamma la parte no quindi veramente c'è qualcosa anche di fisico e di fisiologico di alterato a livello fisiologico però proprio il meccanismo che loro serve per tenerlo sempre con le vibrazioni basse quindi con questo loop del pensiero dei sintomi l'episodio di calcoli che ha avuto anche quello è stato una punta diciamo sì 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 era un sintomo problemi al fegato causa soterica sempre lo stesso sempre questa cosa co le gira psoriasi alla pelle problemi alla pelle allora qua è come allora è come se fosse un'ipersensibilità della ps no ok quindi come se quello che vedo io e allora ps che si attiva e attraverso la pelle sente le energie fuori quando non sono quando c'è un campo alterato rispetto a quello di renzo ok e questa differenza quindi come se lei attivasse le vibrazioni un po più alte per come difesa per renzo e sulla pelle c'è questo contrasto escono questi puntini capelli grassi stessa cosa meccanismo che sui capelli effetti in termini esoterici della sua dieta vegana vegetariana vegetariana vegana leggera inserimento dei pesce che poi è stato adesso di nuovo eliminato completamente scollegata dai sintomi sintomi non dipendono assolutamente dal cibo i sintomi sono creati appunto dall'entità mentale e dalla le dalle onide la sua non vedo di differenza secondo me quella ideale per lui adesso quello che vedo è vegetariana non vegana non è necessario essere completamente vegano al suo fisico sta bene comunque e ok andiamo al disagio adolescenziale andiamo all'adolescenza ben superata da tanto tempo è da renzo disagio adolescenziale solitudine autostima bassa si relazionava poco e male con i suoi coetanei si era quell'uomo del tempo la l'uomo del tempo che allora io in eterico vedo proprio che come se lui spostasse il tempo era già in che senso è come se creasse un volo tra renzo e l'altra persona cioè che aveva davanti no quindi come se si metteva mettesse in mezzo e non ci poteva essere comunicazione c'è anche già l'interferenza di livello 3 che agiva quindi la difficoltà a parlare così era anche più alta la vedo che ci era a livello 5 è riuscito a diminuirla riuscito a mandare via all'uomo del tempo ea diminuire la forza dell'entità mentale di livello 3 da solo se con gli anni con l'esperienza va bene come si chiama questo uomo del tempo per tus ha voglia di parlare con noi ma insomma dice era obbligato a farlo è fatti lo sa ok quindi deve rispondere con la mano sull'attenti ok ok cosa pensa di renzo dice che c'è stato un momento quando aveva l'età dell'asilo dice che dove la la sua ps ha fatto una scelta dice allora poteva o fare una grossa evoluzione rispetto alle relazioni esterne oppure scegliere l'esperienza invece di essere in solitudine timido con bassa autostima e in quel momento lì c'è stato come un traballamento di vibrazioni tra alte basse e l'uomo del tempo si è inserito quelle basse e l'ha interferito dice che sono quando vengono creati mi dice loro uomini del tempo come se avessero un recettore delle vibrazioni adatte a loro no quindi adatte al compito per cui sono stati creati e in quel momento ha trovato le vibrazioni di renzo e si è filato lui si considera un software ti dà fastidio questa domanda perché la scrivo sulla maglietta tu ti consideri un software punto di domanda non vuole risponderti andiamo spingere non siamo le frequenze finché non risponde purtroppo sì ma tu sei un software sì perché purtroppo presti essere umano se quanti umani dalla tua esperienza di software non hanno parte subliminale alcuni sono molto come se la vedessi alcuni ce l'hanno piatta ce l'hanno in fondo ferma piatta se sono umani umani al cento per cento piatto anche se sono piatta come se non funziona disattivata e tu non gliela puoi prendere non posso prenderla tutta posso stare lì e prendere la loro energia posso quando tagli e la via non ci riesco quando nasci da dove vieni fuori esco da una specie di fungo nero con tipo delle aperture delle porte di metallo esco come si chiama il fungo monte dei primi non si trova si trova tra da in alto io vedo la sorgente ed in basso vedo lucas e qua intorno ci sono tutti delle altre postazioni non tutte a forme di fungo ma delle altre postazioni e poi la vetro dei pianeti la vostra matrix tu che non sei umano e non sei corporeo vedi l'assenza l'inesistenza del tempo sì 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 per venire a interferire voi abbiamo attiviamo un meccanismo che come si è un meccanismo che io schiaccio e attiva come una specie di potrei dirvelo a voi come se fosse il vostro tempo quindi un cronometro dove girano i minuti e secondi e le ore e poi quando devo agire fuori quindi se io vi devo fa devo portarvi a fare un abduction devo fermare quell'istante o fare un incidente o creare un evento schiaccio tipo pausa faccio quello che devo fare vi rimetto al posto e poi rischiaccio e poi lo faccio ripartire beh quindi gestisci il tempo per questo che ti chiamiamo uomo del tempo se tra di voi come vi chiamate come vi ha battezzati lucas lucas ci ha battezzati uomini primi perché arriviamo dal monte dei primi che è il primo uomo primo è stato creato da dagli elohim da tre elohim dai tre elohim che hanno iniziato il vostro gioco qua come si chiamano farò una iave 1 muhamed 1 ci va e quelli tre e come si chiama l'uomo primo che hanno generato il primo uomo primo prometeus va bene elena disconnetti da questo uomo del tempo e chiamiamo prometeus è arrivato dietro a quello lì come lo vedi alla forma del fungo del mondo alla forma del monte dei primi in miniato c'è più piccolo quindi è come se lui è il primo e quindi ha la forma del posto da cui arriva con tipo gli occhi e con un blu un blu elettrico un blu un blu informazioni non vuoi dire un colore tipico delle formazioni è un grande uomo del tempo un grande software se che cosa ti dice mi dice che lui coordina tutti gli uomini del tempo che interferiscono le persone quando nato anche in anche anno limiti minuti se dice una cosa è che su tutti collegati a lui nel senso lui li fa partire e le informazioni arrivano tutte a lui e poi lui smista quindi anche l'energia arriva lì e poi come se la smistasse no come se deve passare da lui ecco mi fa vedere questa cosa qua coordina tutto il movimento organizzato quando è nato 10 140 milioni di anni fa ma lui è il figlio di lucas si può dire così io li vedo pari però lucas è più c'è a un ruolo più importante quindi lui sta quello che lucas decide però come se li avessero creati assieme come se ci dovesse essere ci dovessero essere tutte e due le parti no lucas decide come al gioco e coordina tutto e poi lui fa questa parte qua del tempo ma per far partire il gioco c'è sono dovuti esserci nello stesso momento perché se no e lui non sapevano come fare senza questo senza questi due strumenti va bene le cose si fanno lunghe abbiamo trovato prometeus e siamo contenti prometeus ha creato il fungo dal fungo escono fuori gli uomini del tempo che hanno un ruolo fondamentale nella storia di renzo va bene torniamo su renzo vediamo se i metalli pesanti che a bocca ha ricevuto in bocca con cure dentali massicce da giovani oggi rimossi hanno con mercurio l'amago amalgame a base di mercurio hanno comportato qualcosa a livello esoterico allora quello che vedo è che è come se tenessero tutte le vibrazioni di questo in generale su tutti e poi dipende appunto dalla consapevolezza della capacità della ps di alzare le vibrazioni però in generale i metalli pesanti tengono tendenzialmente le vibrazioni di una persona più basse sempre a un livello più basso quindi se in media una persona vibra a 10 miliardi con i metalli pesanti più metalli ai e più e basso il tuo siamo la tua media quindi magari stai a 800 milioni anche più bassa seconda di quanti metalli ai ma questo solo fino a quando ci sono i metalli una volta che sei disintossicato hai tutta la libertà di aver le tue vibrazioni alte come come le vuoi avere quindi questo questo è il caso se adesso lui è libero assolutamente causa sottorica del sogni e incubi che fa specialmente quello in cui la cane un cane grande lo insegue alla fine lo mangia allora quello lì lui vede 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 vedeva le abduction dell'abduction c'era questo proprio diciamo l'interferenza era proprio di un canide così non so ed erano delle abduction fatto che venisse mangiato è come se loro durante l'abduction in eterico riuscissero a come se pian piano in eterico riuscissero a prendendo l'energia riuscissero a diciamo togliere dei pezzi di corpo ma solo in eterico vedo che è come se si asciugasse come se sparissero dei pezzi pian piano in eterico e quello e lui sentiva il fatto che lo mangiasse era proprio quello quella volta che ha visto la mamma andare via con la sorella diciamo che è una è una scena che le hanno fatto che le hanno voluto far vedere per aumentare la sua idea che la mamma avesse poco affetto nei suoi confronti no quindi tenere agganciare quel pensiero per tenere le vibrazioni basse grazie a quel pensiero lì affetto scherzo affetto della madre conseguenze esoteriche ha diminuito un po la sua autostima no diciamo che quella è un'interferenza della mamma è una cosa della mamma ma su di lui ha fatto sì che le sue la sua autostima stesse ancora più bassa diciamo se non posso se non mi ama neanche mamma come fa amarmi 5 altro ecco diciamo in base questa idea qua ha fatto sì che la sua autostima rimanesse ancora più bassa renzo la mamma è viva e chiamiamo nel cinema una sorella la sorella la sorella la mamma la moglie compagna tu hai dei figli no se vuoi due figli al massimo prendono delle informazioni non è che succede chissà cosa non ti ritrovi la minestra a avelenata da tua moglie fanno venire in mente delle cose così come si è spostato cioè nel senso non te ne vorrà al limite più contenta sappiamo informazioni almeno in eterico allora mamma si presenta si sta più o meno a metà arriva la sorella e anche se sono grandi e come se la mamma dicesse la sorella dove deve stare no e quindi si comporta con la sorella come se fosse ancora una bambina dice vieni tu siti qua davanti a me la sorella si siede dove cavolo vuole però perché nel cinema non ci sono queste regole ognuno è a sé ognuno viene per propria decisione per prendere informazioni non per spiare non per interferire non per prendere ordini non per darne dove si siede la sorella si è in seconda fila dietro ai suoi nipoti quindi tra i figli di il posto in cui voleva la madre no beh la madre c'è rimasta male si è un po in alta in ansia perché le mania del controllo ok vuole andare la mamma se vuole andare va no 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 ok i figli sono le detto madre sorella ok ora visto che ci sono anche loro apriamo capitolo padre morto investito da un'auto in corsa anzitempo chiamiamolo portale aureo tutti i parenti di renzo di tutte le generazioni che vogliono venire nel portale aureo subito causa esoterica mentre padre vediamo se arriva di questo incidente se padre ci permette di analizzarlo ovviamente sì allora mi è arrivata proprio chiara la scena quel periodo lì e c'era o quel giorno lì con la settimana lì papà aveva le vibrazioni molto molto basse per una preoccupazione o era un po giù lui non so perché vedeva una situazione che lo faceva essere un po preoccupato quindi lo vedo molto cupo con le vibrazioni molto basse è arrivato proprio vedo che che è arrivato questo demone direi insieme a un uomo del tempo c'è li vedo arrivare proprio c'è vedo la macchina vedo papà di renzo ok e vedo arrivare questo tema nel questo uomo del tempo all'istante e fanno fare lo scontro e il demone che succhia proprio tantissimo va bene questa è la dinamica perché però il padre ha preso questa decisione allora in quel momento lì è come se la ps avesse un po perso il controllo perché vale vibrazioni molto basse aveva aveva deciso di fare un'esperienza simile però non proprio di morte come se ha perso controllo e non è riuscita a sopravvivere nel corpo ma perché a livello macroscopico ha deciso questo in questa esperienza di fare l'incidente si di andarsene così chiediamoglielo si non ha proprio scelto di andarsi c'è la sua scelta era di fare l'incidente ma aveva le vibrazioni talmente basse che il corpo non ha sopravvissuto va bene come viene il padre come lo vedi è il vedo tutto sanguinante tutto scorciato picco ok adesso dove di meglio se si adesso si sente si è liberato da quella sofferenza c'è ancora nella sofferenza fisica bloccato lì c'è non che c'era la sofferenza fisica ma non ricordo di quel momento lì e rimane era rimasto incastrato lì cosa vuole dire al figlio mi spiace di essere nato via così ad improvviso così presto così prematuramente ma ho perso il controllo e e questo è cosa vuole dire alla sorella di renzo se qualcosa di bello e divertente non crociolarsi non crociolarti ancora nel dolore della mia perdita e la tira sulle vibrazioni alla moglie rilassati e molla vivi a renzo grazie per avervi fatto che per avervi fatto vedere come stanno le cose e grazie per per avermi dato questa opportunità di potermi liberare ok lo salutiamo vuole andare da un abbraccio quanti sono i parenti di renzo che si sono presentati 128 ok chiudiamo il portale aurora dopo tutta questa analisi i comodini sono ancora lì quelli di inizio sessione allora no adesso non ci sono più comodini ma ci sono diciamo tutte le cose c'è tutta la dualità sparsa in giro quindi senza più una struttura è tutto misto per terra direi quindi è un po più libero da ancora tutto vicino ma un po più libero po meno in casella un po meno diviso cosa vuole fare renzo cluster andiamo ogni vita è un pallone da calcio con vari tanti quali grandezze forme colori squadre ogni pallone una vita sì o più palloni anche una sola vita ma non ogni pallone una vita e con su di val disegni di grandezza più grande più piccola a seconda di quanti contratti a quella vita e colori disegni che indicano che evitare ecco cosa vuole farne sta prendendo il portale definitivo vabbè lo può fare la forma di porta di calcio e fa un super mega gol di tutti questi palloni fatto e la rete si chiude scompare ecco ad eterno un qua si sta creando ok creata andiamo all'avatar l'ora allora per la prima volta vedo 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 le informazioni avatar c'è vedo l'avatar come informazioni che continuano a dargli vargli per cercare di recuperare la situazione quindi come se vedessi la forma del fantoccio ma a informazioni quindi continuano a regare informazioni in che senso non ho capito invece che vedere il fantoccio dell'avatar di legno ma lo vedo di solito c'è la sagoma ma è formata da tante informazioni che le arrivano per cercare di rimettere nel computer di renzo no gli impulsi per cercare di recuperare la situazione che stiamo creando noi quindi la loro eliminazione dell'avatar e serva qualcosa tutto questo a un castello bello ad eterno ma che qua fatto con questa nuova condizione il caprino del secondo universo che tra l'altro era deputato a quale scopo allora come se gli incutesse e come se cercasse di portare renzo a volte a vedere la cattiveria in alcune persone e lo portasse a volte a pensare di vendicarsi molto la cosa è molto sottile non che lui lo facesse ma ogni tanto vedevo queste vibrazioni basse che quindi c'è come se fuori ogni tanto c'era qualcuno che era colpevole e lui a fare qualcosa per farsi che non gli venisse più fatta quella cosa ok c'è ancora qualunque entità eterica mentale impianti l'uomo del tempo che abbiamo interrogato no per renzo c'è ancora l'influenza di prometheus sono impianti hai detto di no non c'è più niente ok no vibrazione allora 105 miliardi nuova consapevolezza 198 psp 63 37 vite precedenti 1695 cervello 9.5 messaggio finale della ps di renzo relativamente a tutto relativamente a come alzare le il progetto di cervello in generale allora mi fa vedere una nuvola come se renzo dovesse creare una nuvola creando delle nuvole lui si allena alzare le liberazioni quindi volevo le dipinge o mi viene anche sai quel quelle macchinette che producono vapore un modificatore se utilizzare anche una cosa così e mentre l'utilizza con delle essenze del profumo in particolare imparare ad alzare le sue vibrazioni a sentirle non so mi fa vedere questa cosa qua e anche dipingere nuvole dipingere così poi mi fa vedere mi lo fa vedere con i suoi figli in un prato ok che con i suoi figli sentire la vibrazione dei figli e insegnare i figli e sentire la vibrazione so fare una cosa assieme imparare assieme i suoi figli vuole dire qualcosa alla moglie l'iterico compagna moglie e vuole dire fai anche tu questi esercizi a vedrai che stai meglio stai proprio meglio senti più forza senti senti più leggera più felice questa cosa vuole dire qualcosa i figli stessa cosa madre ma la madre la vedo quasi che non sente neanche chi sta parlando quindi avete molto nel suo cuscio ha preso le informazioni ma non è che si muova tanto da lì ecco ok e figi invece i figli stanno giocando con gli strumenti che abbiamo fatto vedere quindi stanno provando hanno preso la vick stanno creando ad eterno stanno sperimentando l'eterno essenziale vedo proprio che giocano questi strumenti e sono tutti contenti entusiasti va bene non cosa da aggiungere beh non lo vedo più seduto non c'è più poltrona né niente lo vedo in aria che è tutto contento e gira e cerca di fare un po di ad eternum qua così per imparare a farli e li rimanda diciamo in giro i comodini ci sono ancora no no c'è più niente lì ok mettiamo un grandissimo ad eternum nel fungo che produce nel monte dei primi gli uomini del tempo è grande più grande del fungo lo ingloba completamente facendo fede al suo nome ad eterno ma resterà lì per sempre li ha attaccato al fungo e se ne creerà uno nuovo se si creerà un nuovo fungo da un'altra parte questi sono tutti i programmi e la d'eterno se vogliamo è un programma che canalizza un'energia quindi modifichiamo il codice e in modo tale che dove ci sono dove c'è il fungo d'ora in poi c'è una d'eterno che lo contiene il tempo ce lo modifichiamo noi non abbiamo bisogno di un uomo del tempo perché perché abbiamo deciso così adesso va bene pronta a tornare disconnetti